Un amico cuore, arrivare al pubblico, arrivare al pubblico, arrivare al pubblico, questo lo chiamiamo, autistica tradata, 180 ottimi, bello, ASD, ovviamente modazione, con le specchini soldi, così, senza aria, senza arrivare a te, io no. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Il primo giro è il suo sluoco. 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 No, no, ce la facciamo. Il primo giro è il suo sluoco. 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 È il suo sluoco. Il secondo giro è il suo sluoco. Il primo giro è il suo sluoco. Il bang одинベore dell'unica di carne elettr znajdu fledgeno. Grazie. 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 Buongiorno, tutto bene? Grazie. 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 e per quello che dovevano fare i miei campionati facciamo un po' di pasta grazie 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 oggi è giornata da grigio l'ho ripreso martedì ancora dopo quattro mesi non andavo ancora qui perché bravi buongiorno per tutto il giorno si, l'ho ripreso febbraio poi sono stato fermo le finali le finali della prima divisione e terza divisione hai capito in modo che la nascita come conoscenza c'è il sonico si da uscita dal parco di mella si da uscita dal parco di mella vanno a destra Luca non fudiamo no subito a sinistra è la sala che hai fatto l'immagine ah scusa Luca non c'è non c'è ma non c'è non c'è ma non c'è ma più comodo è meglio quanto fuori buongiorno a tutti mi piace bascetta non c'è un senso non c'è si io io non c'è ma non è che buona giornata tutto bene ok vedo che qui c'è già qualcosina da mangiare ma questo è il primo dopo la gara dopo voi altrimenti altrimenti addio è brave 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 eccola qui la coppia più bella del mondo come una volta ragazzi non offenderla moglie generazioni che vabbè ma non ci sono buona giornata ciao bello dai dai quella bandera ma quella via piccolina ci vuole quella grande ci vuole quella grande va bene va bene totò ciao ciao c'è un fantasma lì dietro 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 davvero domani si sposa quindi ci vuole ci vuole una foto caspita e dove si sposa bellissima il marito non c'è quel futuro con me no ah già ecco io c'è scritto proprio sono la sposa ma che ma che bella questa cosa qui wow bellissima vai quindi non vi siete sposati oggi perché dove c'era la corsa insomma bene bene allora auguroni bene bene grazie grazie Grazie. 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 Buongiorno. He Brugna! Buongiorno. Ho fatto la rappresentanza di tutte le squadre che sono passando. Come si muove? no non ci posso credere ciao aurelio no 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 corre si corre si deve arrivare giù aspettiamo che parte va bene va bene Grazie. 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 Mi hanno detto che vince il 231, è vero? No? Oh, scusi, scusi, mi perdono. Non c'è... Non c'è... Facciamo le tappe di Venefreni. Ma non c'è... Non c'è... È vero che era da... Un altro per plono, se non ho. Cioè, numero 224. Sì, sì. Buongiorno. Grazie. Sono io. Il d wound su medici. Vedendo. Chi ha dato. Sindaco. Dipende a tutti i법i. Chi ha detto? Ho fatto meglioح Carl. Meno male che han fatto anche questi Time gli adhesive o ha provato maledetto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti